Roberto Tincheri oggi all'eliporto di Impeia per una giornata di croce bianca, vigili del fuoco e unità cinofile. Ecco, di cosa si tratta? Noi siamo semplicemente ospiti, oggi per noi è una giornata di formazione, il ringraziamento ovviamente sia al nucleo cinofilo dell'amico Rocco Tuffarelli che al nucleo dei vigili del fuoco, che ci permettono fondamentalmente di fare una giornata di formazione a tutti gli effetti. Oggi si parlerà dell'avvicinamento all'elicottero, e ci sarà la disponibilità da parte del pilota Sergio Collodoro che ci darà indicazioni per come avvicinarci in sicurezza. Per noi è veramente una bella giornata, sono contento che abbiano aderito più di 30 volontari e soprattutto però oggi volevo ringraziare il corpo del vigili del fuoco che come sempre quando abbiamo bisogno loro rispondono sempre presenti e per noi è veramente una giornata importante, una giornata di formazione e quindi volevo ringraziarli veramente per la loro disponibilità ad averci voluto oggi qua con loro.